ste cose io ho compreso in quadratura no eh si dicono tutti così va bene, facciamo non vè no no va bene moco da piedi no no vi lascio sempre scelta totale del veicolo io c'ho solo questo adesso che è forte come manco mo smettico il camion no no puoi anche usare i veicoli quelli lì del computer quelli speciali non è un problema ma non me ne cosa se quelli con la l quelle con la l tra parentesi no non mi dico anzi eccoli scelta libera del veicolo usa quello che vuoi vabbè da proprio questo è il doomering la registramo sempre con le polliatura ma che cazzo un po' ti va la macchina oh oh si si perché forse non ho ancora visto quanti giri ho messo vabbè su qui vabbè su quindici ma è quindici così la metto un po' complicata oh si schianta okhio 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 ma chi sei mazzo mamma ma dove era la macchina mamma 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 che però sai veloce sto carano è veloce si ma frena non è che non frena se tu che devi frenare perchè comunque non vedi la pista dritta vedi la vita stortta ma che è eccolo è detto qua devi frenare prima è per quello io l'ho toccata appena piena ma è una bella tu vuoi dire che mi insegna il contaglia erba bellissimo quello che muro prendo sempre c'è cazzo la fai la fiancata si fa la fiancata e palla troppo una ruota destra oddio se c'è un ciclo di claudio è molto praticamente claudio praticamente morto ma ha preso un pieno ha dato devastazione a se stessa non ho visto oddio non ho visto nessuno praticamente la ghiaccia stavica durata un minuto messa quando tu mi hai buttato fuori qui non ho fatto apposta tutto mio guarda che hanno come diventato è mica dovresti vedere anche il mio nome conciato no no grazie guarda il mio cammino come diventato ho capito non vedo un cazzo no 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 girati girati sì che culo mamma c'è una macchina di claudio qua morta in curva è morto in curva non vedo niente non vedo un po di niente un cazzo si ma non ho cliccato è diventata una super è diventata la macchina non ce l'ho più oltre in prodigio io 78 se però mica ho preso pure io un bel quello ma si vede un cazzo si vede mamma mamma adesso che claudio adesso che claudino tappisciare la prossima in quadratura normale metto 60 giri va bene va bene fatto io così veramente occhio ho preso qualcuno l'ho shottato ce l'ho shottato io ho levato con quel mezzo di vita praticamente è divertente fa sta cosa ma veramente il visuale è bruttissimo stupendo sto in quadratura sì però c'è intornale non vedi praticamente un cazzo di quello che c'è davanti è come guardato è come guardato una gara da casa ho capito ma tutta casa non è che cariggi però è bello questo camioncino qua mi piace perché ogni istante ci sono le ruote che rimbalzano praticamente rimbalzano su 10 è bello perché c'hanno andate gli scarichi anche vedi le fiammate che escono da tutte le parti sì però vedo le fiammate bianche cioè non so se non è questo è blu un po' acceso un po' così però è un teschio diciamo che è una specie è un misto tra un po di fumo è sì che ho preso non mi ha detto niente e mi sono capottato non mi ha detto niente perché io poi sono il tettuccio non ce l'ho più cioè come se mi hai visto bene sono tutto curvato non arrivo a fine gara pure ma che è madonna sì mi hai lasciato con 9 di vita ma che droga ma che è però è bello sto fatto bene a comprarlo sì sì ti ho detto io appena mi arrivano appena riesco a prendere anche tutti gli altri punti mi prendo anche l'altro autobus oggi è che c'è una macchina di grado che è indemoniata si muove da solo in mezzo in mezzo di quella curva o se qualcuno ho chiesto che ho visto da dritto ma se è lì che il giro da sola e sì ma sono finito di tigia si la messa nel povertire c'è non poco da me ma qualche città vicino sarà giustano di suono come al solito qualche festa per inaugurare che c'è la nuova variante di cobit in giro eh non hai visto che c'è la variante di cobit adesso c'è addirittura si addirittura hanno detto che a maioca si sono infettati su tutti gli universitari che sono andati là a fare vacanze come sono sbarcati erano già tutti infetti guardate si è perso una cosa con Dezzo bellissimo è uguale che lo stavamo per ripetere eh ho notato beh è rimasto tipo con due di vita è rimasto per colpa mia che droga bene la prossima la prossima claudio mettiamo di nuovo l'inquaggiatura normale mi chiamo io voglio vedere la gara adesso l'abbiamo fatto con claudio su youtube dopo che ho fatto che ho ucciso ma come che c'è mi hai shottato eh si t'ho preso t'ho preso manco t'ho visto cioè quello è il problema si ma sono diventato sei quattro sono diventato io credo che ero primo t'ho preso e non ho preso sono spandato tutto rimango ancora con il giro migliore ehm eh il soccorso dice eh ma perchè tu hai una macchina no perchè a me l'hai shottata eh si l'hai shottata eh ecco ecco è lì vicino al tuo corpo ehm la devo vedere la voglio vedere quella partita di con claudio madonna santa eh 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 mezzo giro le durazioni cioè mezzo giro ma no ma ehm non si vede per più preciso eh allora si vede quando mi prende tette mi pare quando tu mi hai shottato non si è visto ah non si è visto eh perchè stai facendo il giro della morte mi so no ho sentito ho sentito il botto però dopo sei passato tu quindi perché con questa inquadratura è un po' più particolare si ma che cazzo eh ho la mia carcassa quella eh ha capito ma mi sei impostata la macchina qua guarda guarda che c'è il respond si si lo so va che si cappotta va che si cappotta vai che faccio ceppotta niente ho fatto ceppotta becco qualcuno madonna guarda la macchina mia via l'andoletto morto la macchina tua qui mi continuava a girare cioè l'unica cosa che è rimasta in piedi del mio camioncino è il teschio in avanti che è lì che sembra un uno di quei personaggi di le colline hanno gli occhi due tutti i deformati è mezzo storto è mezzo storto deformato eh eh si però chi è questo? cioè quello lì sei girato quello lì quello parcheggiato no quello lì sei io quello parcheggiato là no non sono ancora arrivato al tuo parcheggio tu sei vicino al traguardo Claudio tu sei nell'ultima curva prima del traguardo uiii 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 eccoti muotelo qua la palla di fuoco qui sei tu madonna che poi non ho capito quel successo cos'è? ti sei curvato all'inizio Ned t'ha preso e poi io non vi sono preso a te ma è successo che stava fa il giro della morte quello che a me ha spandato la macchina io poi mette la dritta ho preso prima l'inizio al giro la moto ho preso il muro con la destra poi ho preso destra mi ha dato una botta mi ha fatto il gira quando ho fatto il giro la morte e poi è passato che mai esce a fare ah 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 bene ah 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 la relazione è vero sempre napole però backavo intendo quello ma mamma m c'è poi un pieno ma c'entrato lui a me l'ho maffetto io ma un me ma lei devastato si è devastato l'ho devastato che credo l'ho visto prende poco il motore vedo un po con il motore e ho visto e ho 30 di vita ovviamente questo punto ha centrato la portiera portato io sono entrato direttamente in tracopano di entrato c'era lì che ha detto pit stop bisogna di qualcosa una monster delle eratite il teschio che c'hai sopra su percafano l'ha incornato per gli amici si porca adesso qualcun altro me becco tutti i morti sono qua ma che è dead match a squadra è diventato muro ho sbattuto e tornati in ritro da solo ma con me siete rimasti in quattro ecco che so quattro perché ma sei l'ultimo eh sì so io sono ultimo e minchia stava di spagnolo sono l'ultimo ma c'è oh leh oh leh son vero domani mi vedi in giro col sombrero lo dico io beh son vero però il messicano eh vabbè ma tu devi sapere che il messico è lo stato che ha inventato un italiano che è andato lì non è un problema ma buttò fuori a questo tacci il tuo di qua a prozzo a prozzo a prozzo apprezzo a proiettare apprezzo il il quello di scuola o c'è qualcuno che c'è qualcuno che c'è qualcuno c'è qualcuno vedevo cashman che vedevo cashman che o tu o the dead non capito eh quella che fa l'altra vista la domanda dritto non ce la faccio vado troppo lento anche dopo questo ti manca l'ultimo giro wiii guardalo qua guardalo qua si vede con il culo o ammazzo? no no avrai ancora 20 di vita ancora 28 e ti senti ah di uno hai perso non hai vinto il monte premio mi stia oh e questo secondo così dal nulla ma come secondo? secondo quello si è cappottato da solo se lo becchiavo però ciao se lo becchiavo però ciao se anche io quello lì l'ho visto dentro il gabbrotto se lo beccavi lo scottavi dentro il primo il primo già fai prima già c'è da quattro al secondo praticamente bellissimo bellissimo si suona classo no non c'è l'ha eh ma ah no cazzo me l'ho battuto il miglior giro a stade io ho fatto il miglior giro no no ero due vabbè perché ovvio sta con qualcosa lì era più veloce poi magari loro non guidano manco i gol non guidano manco grazie